Buongiorno a Daniele Comero, Presidente dell'Istituto Studi Politici, che è con me. Daniele, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Perché ho chiamato Daniele? Per cercare di capire insieme, Daniele, gli scenari possibili dopo questa decisione, che è stata messa a punto nelle ultime ore dal governo, c'è dell'obbligo del vaccino over 50, anche per sapere cosa ne pensi tu ci mancherebbe, però mi piacerebbe avere un quadro più scientifico possibile, utilizziamo questa parola, e quali potrebbero essere le situazioni che si potrebbero venire a creare da adesso in avanti. Poi parliamo anche di quello che è ancora in esame, però lascio a te la parola, peraltro l'ultima volta che ci siamo sentiti, tu mi avevi portato tantissimi dati molto interessanti sullo stato dell'arte, sulla fotografia italiana rispetto al Covid e all'incidenza che questa pandemia sta avendo sul nostro paese. Allora, intanto ti chiedo se ti aspettavi questa decisione da parte del governo e come la reputi? Probabilmente sono più decisioni politiche che non tecniche, adesso lo vedremo. Poi questo, adesso io non vorrei fare un'analisi politologica perché è meglio attenersi ai dati, da un punto di vista politico valga un solo esempio per tutti, insomma, chi ha seguito ieri sera un po' questo affanno intorno alla riunione del Consiglio dei Ministri, alla lunghezza spropositata e poi alla fine alle 9 di sera, 9 e un quarto mi sembra, abbiamo visto tre ministri uscire in piazza Buia, piazza Chigi, uscire lì davanti a Palazzo Chigi e fare un'improvvisata conferenza stampa. Questo direi che da un punto di vista plastico rappresenta bene lo stato attuale, insomma, e soprattutto anche chi erano i tre ministri per capire, e soprattutto dove era Draghi e dove erano tutti gli altri. Quindi è una scelta politica voluta da quella parte, da quelli che si sono presentati in piazza, insomma. E il ministro Bianchi a un certo punto ha concluso dicendo siamo esattamente dove dovevamo essere. E quindi è una considerazione, cioè come dire, qualunque sia dei dati, noi dovevamo essere qua. Ah, ok. Allora, adesso, questo è da un punto di vista... Però andiamo a vedere, no, 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 chiarissimo, però... Andiamo a vedere i dati. Bravissimo, allora io vado su, a tua cura, insomma, hai raccolto un po' di dati, poi lascio a te la parola. Ah, sì. Ok. Ti ho mandato una breve, non so se riesci a farla vedere o se la posso far vedere io. Allora, se tu vuoi farla vedere così ti seguiamo esattamente mentre parli è meglio. Allora, vediamo se riesci a condividere così, vediamo se ce la facciamo. Se no, dovrei comunque averla anch'io e vediamo se ti riesco a seguire io. Adesso un istante che ci... Sì, se mi... Ecco, condividi schermo. Esatto, dovresti riuscire a fare così. Vediamo, ecco qua, sta comparendo tutto. Perfetto, vai. Allora, raccontaci tu, così è molto meglio, così ti seguiamo, vai. Allora, parto, poi questo è anche l'inizio, è un articolo che ho fatto per Civica, civica.uan, chi vuole andare a leggere. Perché l'ho fatto sentendo l'ultimo dell'anno il presidente Mattarella che diceva che il vaccino non garantisce la invulnerabilità. Allora mi sono chiesto, siccome il presidente come lui parla sempre a ragione venuta, non è che dice una cosa così tanto per dire, insomma. Allora mi sono chiesto che dati avessi in mano per fare questa affermazione. E allora ho visto, ho trovato subito, in effetti è uscito proprio quel giorno lì, il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità è un bollettino, l'ultimo del 2021 che poi hanno aggiornato ancora anche l'altro ieri. Ed ha una definizione abbastanza interessante delle varie categorie. Si sono formati dei gruppi sociali, insomma. I nuovi gruppi sociali sono le persone che sono vaccinate complete con terza dose e booster, e sono 5,6 milioni. I vaccinati completi da più di 120 giorni sono 26 milioni. I vaccinati completi con meno di 120 giorni, 13 milioni. I vaccinati incompleti, 1,5 milioni. I non vaccinati sono quasi 7 milioni. Quindi abbiamo vari gruppi sociali che interagiscono in modo diverso con l'epidemia. Questo è importantissimo per capire quali sono i gruppi, insomma, e le dinamiche che ogni gruppo ha, che non è paragonabile. Si. E poi, diciamo, il quadro di analisi dei dati viene sempre rapportato a questi, insomma. Cioè, ad esempio, è molto importante questa distinzione dei vaccinati con più di 120 giorni o con meno di 120 giorni. Questa, diciamo, è la categoria principale, più che quella dei non vaccinati, insomma. Ok, ok. Probabilmente, questo si riferiva al Presidente Mattarella, cioè, probabilmente il vaccino ha una garanzia, diciamo, scade e decade nel corso del tempo. Decade e quindi ha bisogno di una dose booster. E questo lo si vede dai dati statistici. La dose rinforza, ma nessuno sa quanto durerà. In questo articolo ho pubblicato un parere di scienziati americani che dicevano non sappiamo ancora quanto durerà, quanti mesi. Però è solo questione di mesi. Non è che sia una questione che garantisce. Poi ci sarà una quarta, una quinta, una sesta. Bisogna vedere come andranno le cose. Diciamo che, per quello che riguarda l'Italia, i diagnosticati positivi nell'ultimo mese sono stati 570.000. Ok. Tra questi, solo 170.000 sono stati trovati tra i non vaccinati. Quindi c'è tutto il problema dei rinfettati. E all'interno di questo gruppo dei rinfettati il problema indubbiamente più grosso è quello degli operatori sanitari rinfettati. Perché una persona normale, diciamo, sta a casa e finita lì la questione. È un problema suo, è un problema della ditta. Invece gli operatori sanitari rinfettati diminuiscono la capacità operativa del sistema sanitario proprio in questo momento in cui si ha bisogno che siano tutti presenti. E un po' perché le norme sono state fatte così. Ma al di là che stia bene o che stia male la persona. Però le norme sono impostate così. E quindi praticamente è un sistema che si mangia la coda, insomma. Un po' norme severe. E queste norme severe subito ti tagliano via le ali, ti tagliano la coda. perché fai stare a casa il tuo personale. Al di là che stia bene o che non stia bene. Che sei sintomatico o sei asintomatico. Se trasmetti o non trasmetti. Quindi fondamentalmente bisognerebbe analizzare i dati in modo diverso. Questo è un po' il concetto di partenza, Daniele. Ma io riporto quello che ho visto. No, no, certo, certo, certo. Ieri mi sono messo lì, ho guardato, vediamo un po' com'è la situazione adesso. E la categoria dei reinfettati adesso è diventata grossi. Mentre a novembre, come abbiamo fatto l'ultimo incontro, era una cosa marginale proprio. Adesso invece è segnalata con grande... E ci sono tanti dati su questi. Perché ha influenza proprio sugli operatori sanitari. E l'influenza è defasta, insomma, da questo punto di vista. Va bene. Quindi, diciamo, sono tanti. Guardate qua, sono 400.000 quelli che sono reinfettati tra i vaccinati. È una cosa di un grosso rilievo. Ecco. Poi... Poi? Valutiamo... Sì? Allora, i criteri per stabilire se c'è l'emergenza oppure no. Ok. Allora, ecco, riprendo un vecchio problema, insomma, che abbiamo in Italia, è che i provvedimenti normativi sovente non sono appoggiati su nulla, se no sul voglio fare. Però questi erano i provvedimenti del re che diceva voglio fare una volta. Adesso siamo in democrazia repubblicana, parlamentare, e un provvedimento in urgente come questo, come te, come gli altri, perché ricordiamoci che c'è una specie di trenino di provvedimenti. C'è un treno che è abbastanza lungo, di provvedimenti normativi, decreti legge, che sono stati emessi, sono tutti abbastanza corposi, e non sono ancora stati approvati. E uno modifica l'altro, o aggiunge all'altro. La lettura di questi provvedimenti vi assicuro che è veramente ostica. Cioè io faccio veramente, e sono abituato, e faccio veramente fatica. Insomma, stamattina mi sono messo lì per vedere nella bozza, nella velina, che è, perché per ora gira solo la velina, sapete che c'è questa abitudine, che ce la delibera, ma il testo definitivo arriverà dopo un giorno, due, tre o quattro, insomma. Ci saranno delle limature, quindi ragioniamo sulle veline, e quindi le veline sono sempre pericolose, perché basta modificare una virgola in questo impianto. Ok, ok. Allora diciamo che questo decreto legge, targato 5, teoricamente 5 gennaio, bisogna vedere quando poi esce, insomma, va in coda agli altri decreti legge che sono in fase di emessi dal governo e che non sono ancora stati approvati, ma che sono effettivi, cioè che funzionano. Ad esempio l'ultimo, quello dell'ultimo dell'anno, il 229, diciamo che esercita buona parte della sua influenza a partire dal 10 gennaio. Il 229 segue il 221, che era quello emesso prima di Natale, il quale a sua volta segue il 172, che era quello emesso a fine novembre, che era il motivo del nostro ultimo incontro. Mi è risparmiato Natale, perché avremmo dovuto fare un incontro sulle fonti. Eh vabbè, insomma Natale l'abbiamo rimandato all'Epifania. Esatto. Perché quello che è stato, il parentesi è uscito proprio alla sera di Natale, la sera della vigilia di Natale, insomma, in gazzetta ufficiale, ed era la proroga dello stato di emergenza, che è la base di tutto. Quindi abbiamo il 172, quello di fine novembre, che è quello che introduce il super green pass, rinforzato, più altre cose, insomma, che è calendarizzato al Senato, ma siamo ancora lontani da un'approvazione. Poi c'è quello del 221 di Natale, dell'antivigilia di Natale, proroga dello stato di emergenza. Poi c'è quello del penultimo dell'anno, il 229, e adesso ci sarà quest'altro. Abbiamo così fatto la fila, un treno, di quattro decreti leggi, tutti corposi, tutti che lavorano sulla stessa materia, e sulle stesse norme, cioè i decreti legge convertiti, che sono il 44 e il 52 del 2021. Questo cosa porta? Il fatto di avere questa coda di decreti che poi più o meno ruotano intorno tutti allo stesso tema? Cioè, da un certo punto di vista è anche un po', così un po', insomma, perché sono arrivati a tutti, siccome tutti lavorano sullo stesso oggetto, cioè sugli stessi, aggiungono pezzi, praticamente, non sono provvedimenti che si possono leggere a sé stanti, insomma, non è che dicono, allora tu, non so, fai questo, stessa. Aggiungono, aggiungono, allora siamo arrivati a cose stratosferiche, insomma, che pure siamo abituati a tante strutture, insomma, però queste non le abbiamo ancora mai viste, siamo arrivati, non so, a un articolo 9 del decreto 52, del decreto legge 52, insomma, allora c'è il 9.1, 9.2, E poi, per evitare di aggiungere, perché dopodiché manca anche proprio il termine, e poi diventa illeggibile, insomma, allora adesso usano, aggiungono all'articolo 9, mettiamo che è quello chiave, il 9.1 e il 9.1 bis, e sono tutti articoli. E' veramente difficile la lettura, perché non capisci più niente, il 9.1 bis cos'è? Ok, ma giusto per fare, però, se siete d'accordo, togli un attimo la condivisione perché ti voglio vedere vis-à-vis, se no continuiamo a vedere solo immagini, invece così ci parliamo. Ma questo, giustamente tu, perché bisogna basarsi sui dati, cosa porta a pensare? Che siamo lontani dal capire dove si vuole arrivare? Cioè, ci stai dicendo questo o cosa? Ma che c'è sicuramente un affanno normativo. Eh, ok. E sta, cioè, non è che occorre essere degli indovini, cioè, qui abbiamo davanti le elezioni del capo dello Stato, cioè, praticamente, le camere un po' ferme, insomma, che vengono dopo una sosta, dopo la legge finanziaria, provvedimenti in coda di questo genere, di questa rilevanza, che hanno incidenza sulle libertà personali, insomma, è un azzardo grosso, insomma, è un azzardo grosso, anche, e poi questi promettono, tipo questo ultimo, e anche gli altri, insomma, tutti più o meno alla stessa schema, che fanno dei figli. Cioè, questo, approvato ieri sera, è già scritto nella velina, che ci saranno dei DPCM attuativi. Certo, i famosi DPCM. Eh, i DPCM non sono, cioè, abbiamo imparato a non sottovalutare. No, 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 anzi, non ne potevamo più di questi DPCM, mamma mia, era diventato un incubo, no? Con le conferenze stampe serali. Diciamo che Draghi è più accorto, è più accorto, però, insomma, la compagine è quella che è. È quella, certo. E poi, soprattutto, siamo ancora in una fase simile a quella dell'allora presidente del Consiglio Conte, no? Insomma, bisogna decidere tutte queste restrizioni, tutti questi provvedimenti. Adesso vediamo i dati sulle restrizioni, sui provvedimenti. Sì, dobbiamo correre un pochino, però, Daniele, perché se no, piuttosto ci sentiamo un'altra volta. Però fammi vedere questi dati e poi ti saluto, sì, perché io fra poco devo chiudere, sì. Ok, faccio vedere i dati. Allora, condividiamo giusto i dati sulle restrizioni, vai. Perché nei provvedimenti non vengono citati i dati, dice solo a vista la situazione di emergenza. Ok, quali sono? Li voglio vedere e poi magari, ripeto, ci risentiamo. Questo è quello che dovrebbe aver visto il Comitato Tecnico Scientifico. Ci sono una serie di indicatori che avevano costruito. Uno di questi è l'occupazione delle terapie intensive. Allora, viene detto, per televisione viene detto, che le terapie intensive sono, cioè, se sono in aumento l'occupazione. Allora, questa è una cosa che ho tirato giusto mattina dal sito apposito della Presidenza del Consiglio, dove c'è proprio questi indicatori monitorati. Ecco, questa è la foto del monitoraggio di questa mattina. Come vedete, c'è una terapia intensiva occupata a meno del 20%. Cioè, ci sono i letti vuoti, insomma. Ecco, questo è il punto. Il primo punto è che bisogna tenere in mente questi dati per valutare, poi ognuno valuta se c'è o meno l'emergenza. Io non sono un medico, quindi non posso valutarla a questa parte. Ok, no, no, ma è certo, assolutamente. È la tabella dell'occupazione nelle varie regioni. Si vede che si va da un minimo di 5, 6, 11, fino a anche, c'è un 23%, però siamo in questo range, siamo in 23% al massimo. Ok. Poi l'altro dato importante che viene citato è l'aumento dei positivi. Abbiamo visto che l'aumento dei positivi, l'abbiamo visto prima in quegli altri dati, sempre nel Stato Superiore della Sanità, tantissimi sono tra i vaccinati. Cioè, solo 170.000 sono dei 570, solo 170.000 sono dei non vaccinati, gli altri sono vaccinati. Quindi vediamo che anche qui c'è un cane che si monte la cosa. Ok. L'altro dato importante per valutare questo... Sì, dammi l'ultimo dato importante, poi guarda, Daniele, ci risentiamo fra qualche giorno. Questa esplosione, per motivi di legge, c'è l'esplosione del numero di tamponi. Ah beh, certo, certo. Siamo alle storie, ti so. Se raddoppi, se raddoppi il numero di tamponi, qua vedete che com'è cresciuto... Per forza si vedranno più positivi, no? Per forza. Gli ultimi 15 giorni è più che raddoppiato. Siamo passati da 2.400.000 a 4.800.000. Tanto è vero che le farmacie sono in colpa. No, certo, ma anche perché la gente doveva partire, feste, Natale, quindi si preferiva il tampone. E lì si è scoperto che tantissimi sono già vaccinati. Questo è un dato importante. Ok. Questo è il dato degli infettati. Si vede che non è in crescita, cioè c'è stato il picco prima di Natale, probabilmente per quel motivo lì, insomma. E poi dopo le cose stanno rientrando, c'è questa esplosione, insomma. Per classi d'età si vede che è abbastanza standard, riflette quella che è la struttura per l'età italiana, quindi niente di particolare da segnalare, non è che i bambini sono di più o gli altri sono di meno, più o meno uguali sono. E questa è la cosa principale che viene confermata. Sì. Allora, quelli che sono positivi, che problemi hanno? Allora, in verde sono gli asintomatici. Ok, poi dopo devo chiudere veramente però, Daniele, dammi questo. I critici, sono quelle righettine rosse in alto, critici, cioè siamo nell'ordine dell'1%, quindi proprio poco, poco, poco. Nelle classi anziane e nei bambini piccolissimi, basta. Ok. Il resto è questo, cioè o gli è sintomatico e o... È certo, è certo. No, no, ma io non è che voglio chiudere qui il discorso, lo voglio chiudere adesso perché devo chiudere il blocco, però, insomma, Daniele, tu sei sempre super disponibile e ti ringrazio intanto io... L'ultima cosa, l'ultimissima cosa. L'ultimissima, dai. Il pericolo più grosso lo si valuta per il danno maggiore che la morte. Allora, la mortalità è cresciuta in questo periodo e questo ad esempio è un sistema che prevede la mortalità utilizzando le città campioni, quelle più grosse. E si vede che è un po' in risalita, ma è un fatto normale stagionale, lo vedete, è successo anche nel 2016, nel 2018, nel 2019. È un fatto stagionale. Se volete, vi faccio vedere l'ultima che l'avevo messa in fondo. Sì, ok, poi però ti saluto velocissimamente, sì. Ecco, l'Italia, vedete, ho messo qua, questo è il sistema europeo di segnalazione della mortalità eccedente. Sì. Cioè, c'è qualcosa in più? Allora, vedete che l'Italia in questo momento è perfettamente dentro i range. E così anche Israele, Ungaria, Grecia e Germania. Cioè, non c'è questo pericolo calcolato in termini di morte. Non ci sono questi pericoli. Ok. Allora, Daniele, va bene. Cioè, questi dati sono importantissimi. Come detto, non voglio chiudere il discorso, lo chiudiamo solo oggi. Era giusto aprirlo perché comunque le decisioni sono calde. Intanto togli la condivisione così ti saluto. Invito ai nostri telespettatori a prendere eventualmente contatto con tutti i canali che ti riguardano. Così almeno possono già vedere anche questi dati. E poi, magari già la settimana prossima ci risentiamo se vuoi e continuiamo da dove ci siamo interrotti. Magari proprio riprendendo anche alcuni numeri che ci hai portato oggi. Il contesto definitivo. È bravo. Infatti stavo dicendo anche con... Verrà che ne miro. Eh sì, bravo. Quindi studia appena arriva tutto perché poi lo riportiamo qui. Grazie a Daniele Comero, Presidente dell'Istituto Studi Politici. Davvero grazie mille perché questi sono dati importanti e spesso non si guardano. Invece noi vogliamo farlo. Buona giornata. Buona giornata a voi. Grazie.